Sospensione di quattro giorni per i servizi di trasporto gratuito per anziani e disabili dai rioni al cimitero e dal centro cittadino alla piattaforma PitBat3 sul litorale. Alla base della disposizione resa nota dal Comune e che sarà operativa dal 27 al 30 luglio, la necessità di effettuare alcuni lavori di manutenzione allo scuolabus adibito a tale tipo di trasporto. Il servizio sarà ripristinato a meno di improbabili ritardi martedì 31 luglio.